Qualche giorno fa una volante della Polizia di Stato, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza del 112, è intervenuta nel capoluogo poiché una donna anziana in stato confusionale non trovava più la via di casa. La donna, smarrita in lacrime a causa della patologia dalla quale è affetta, ha riferito agli agenti di essere uscita di casa e di non ricordare più quale fosse la via per farvi ritorno. Mentre la sala operativa della Questura si era attivata per identificare la donna, gli agenti hanno provveduto a rasterenarla, a darle del cibo e a ristorarla. L'ottantenne, rassicurata dalla presenza e dalla cura dei poliziotti, si è così calmata. Dopo essere state identificate, i poliziotti hanno rintracciato il figlio dell'anziana donna e l'hanno riaccompagnata a casa. La signora, una volta al sicuro, prima di salutare gli agenti, li ha voluti abbracciare affettuosamente, ringraziandoli per il loro intervento.